Non ci possono essere stabilità e pace. Gli effetti geopolitici della crisi alimentare causata dalla guerra al centro del confronto alla seconda edizione di Coopera. Vediamo con Mania Venturini. Prima il Covid, che è stato difficile per tutti i bambini, ma per quelli che vivono in certi paesi molto di più. La crisi climatica, che porta a una siccità devastante. E poi, ovviamente, la guerra in Ucraina. Una serie di crisi a cascata stanno facendo precipitare la situazione per tanti minori, sempre i soggetti più vulnerabili. La direttrice generale dell'Unicef, Catherine Russell, a Roma, la seconda conferenza della cooperazione nazionale allo sviluppo, presenta nuovi dati inquietanti. Oggi, 8 milioni di bambini sotto i 5 anni nel mondo rischiano di morire di fame. Uno al minuto viene colpito da malnutrizione acuta. Anche solo una bustina come questa, che sa di noccioline, altamente proteica, può salvare la vita di un bambino. In Germania chiederò al G7 di impegnarsi di più per l'Unicef. Devono capire quanto è grave la crisi alimentare dei nostri giorni. In tempi di crisi come questi, l'aiuto allo sviluppo è strategico. Il mondo è attraversato da troppi conflitti, da troppe diseguaglianze, da troppi squilibri. E la cooperazione serve per ridurre queste diseguaglianze, per mitigare queste tensioni. Se vogliamo costruire la pace, dobbiamo costruire sviluppo. In fondo la cooperazione è anche un buon affare, vista da un certo punto di vista. La cooperazione è un buon affare perché così siamo tutti più sicuri. La politica ora con Luigi Di Maio, che ha riunito per la prima volta i nuovi gruppi parlamentari nati dall'ascissione con i 5 Stelle. Francesco Maesano. Grazie a tutti.